Ciao amiche, ciao amici, per la rubrica top 5 vediamo 5 passi per la felicità. Il primo passo è, la felicità intanto è uno stato interiore, quindi dobbiamo riconoscere che non dipende da cose esterne uno stato interiore. Però noi possiamo, diciamo, agire sull'esterno in modo tale da andare a modificare questo stato interiore e raggiungere uno stato di felicità. Il primo passo, dicevo, è aiutare uno sconosciuto, dare qualcosa senza pretendere assolutamente nulla in cambio. Può essere un beneficenza, comunque una persona sconosciuta, qui diamo delle cose in modo tale da non pretendere nulla in cambio. E dando che si riceve, si proietta sugli altri una sensazione di benessere fondamentalmente che ci fa stare bene, che ci dà un senso di felicità. Il secondo passo è, fai qualcosa che ti mette in imbarazzo, perché se fai qualcosa che ti fa provare imbarazzo, dai un'emozione, dai un contentino alla tua parte emotiva. La tua parte emotiva sarà felice di renderti felice. Non devi avere l'imbarazzo della scelta, ma devi fare la scelta dell'imbarazzo. Il terzo passo è confessare qualcosa di cui ti vergogni, un tuo difetto, qualcosa che ti fa stare male. Tu confessalo, dillo in giro. Nel momento in cui lo dici, lo depotenzi. E più lo tieni nascosto. Sono quelli che, per fare un esempio, uno ha un naso che non gli piace e cerca di fare di tutto, non mettersi di profilo, per evitare che gli altri lo vedano e rafforzerà questo suo, diciamo, sentire negativo la forma del suo naso. Se invece lo esibisce, anzi lo dici, hai visto il mio naso, così per dire, per fare un esempio. Rafforzi invece la stima in te stesso e vai a depotenziare questa cosa che ti fa stare male. Gli togli veramente potere. Il quarto punto è evita di frequentare persone negative. Ho fatto un altro video sulla frequentazione di persone negative. Le persone negative ti rendono la vita una schifezza. Quindi bisogna evitarle. Anche se sono persone, in qualche modo, noi care, dobbiamo comunque avere la forza di evitarle. Questo è veramente importante. E come quinto e ultimo punto, non accettare imposizioni. Cioè, fai le cose che ti piacciono, evita di fare cose che non ti piacciono, piuttosto rinuncia a altre cose. Ma, ad esempio, se finisci di vivere per lavorare, facendo un lavoro che non ti piace, ma soltanto per una mera questione di soldi, alla fine sarai infelice. Magari sarai più ricco, ma infelice comunque. Bene, per questo video è tutto. Chi si iscrive al canale avrà la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!